E' un problema che affligge milioni di donne e non solo italiane, l'alluce valgo, ovvero la deformità del primo dito della piede, dell'alluce, che porta appunto alla deformità, poi si tira dietro tutta la struttura del piede. Benvenuto al professor Thomas Nizegorovic, che è ortopedico al Policlinico Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere nostro ospite. Grazie. Una bestia nera l'alluce valgo per le signore. Anche per gli ortopedici. Perché? E' una delle prime cause di liti giudiziari tra pazienti e medici. E come mai? E' perché da una parte l'alluce, il piede, perché l'alluce fa parte del piede, è difficile parlare solo dell'alluce. Deve essere bello, ma deve anche servire per camminare e far conciliare le due cose non sempre è una cosa banale. Il problema è il passare del tempo e un cedimento di alcune strutture del piede che sono necessarie per mantenere e per avere un piede normale. Ma quindi non è vero che se la donna usa quelle scarpe col tacco vertiginoso e soprattutto molto strette, il piede si deforma? È vero, ma non è la sola, nemmeno la principale causa dell'alluce valgo. L'alluce valgo si forma perché le strutture capsulari, ligamentosi, ma anche la parte attiva che regola la forma del piede, cioè i muscoli e i tendini, con il tempo tendono a cedere. Le volte si appiattiscono e il piede si allarga, in realtà l'alluce valgo è già una conseguenza di una deformità a monte, come si dice. È il primo metatarsale che diventa varo, si allarga a ventaglio il metatarso del piede e l'alluce poi diventa valgo come effetto di questo varismo del primo metatarsale. E quindi l'alluce, cioè il primo dito del piede, si storce andando a sovrapporsi al secondo, al terzo dito. E confligge con altri dita, sì, ed è causa della deformità del secondo, terzo e anche degli altri dita. Quando questo problema esiste per tanto tempo, strutturalmente che succede alla camminata, alla colonna vertebrale, agli altri muscoli? Prima di tutto comporta il dolore, è un'alterazione della postura, perché una persona affetta dall'alluce valgo istintivamente tende ad assumere le posture che le fanno sentire meno dolore. Antalgiche. Antalgiche, esattamente questo è il termine giusto. E la postura antalgica non è detto che faccia bene alla colonna vertebrale. Perché si compensa in qualche modo. È un modo di compensare. Molte malattie sono proprio frutto di compensazione che non funziona. Per questo bisogna, quando uno ha un problema, bisognerebbe metterci mano subito. Professore, come si interviene sulla luce valgo? Allora, intanto quando si interviene, perché non sempre si deve intervenire. La chirurgia ortopedica non deve essere chirurgia estetica. Però è una chirurgia estetica e funzionale nello stesso tempo. Si interviene o quando c'è il dolore e quindi entrano in gioco tutti i meccanismi di compensazione dannosi, oppure quando il dolore è tale che impedisce proprio di camminare. Una terza ragione, una terza indicazione, come dicono i chirurghi all'intervento, è quando una deformità provoca altre, a catena. Quello che aveva accennato lei prima, cioè il secondo, terzo, quarto dito, si deformano perché sono in conflitto con l'alluce deformata. Prima era un intervento particolarmente demolitorio, diciamo, cioè si squartava in qualche modo questo piede e gli si metteva a mano. Adesso voi come agite? Questo dipende molto dal tipo di deformità, dalla gravità e dalla fase della malattia. All'inizio, quando la malattia, malattia da deformità e all'inizio, spesso sono sufficienti interventi che non coinvolgono l'osso. Cioè si corregge l'alluce agendo sulle capsule, sui tendini, sui ligamenti, facendo le plastiche e le correzioni. Quanto tempo ci vuole poi per tornare a camminare dopo un intervento del genere? Dipende dal tipo di intervento, ma in genere io direi che noi dovremmo onestamente dire al paziente che un mese lo deve dedicare al suo piede. De tranquillità lo deve dedicare al suo piede, come giustamente dice Zegorovic. L'ultima cosa, molti suggeriscono l'uso di plantari notturni in silicone, eccetera, per tentare di raddrizzare questa alluce valgo. Lei che ne pensa? Penso che possa ritardare l'intervento, ha questo significato. Ma non è un miracolo? No, assolutamente no. Non è in grado di fermare quei processi che sono in qualche modo anche naturali, anche se a un certo punto diventano patologici. Non è possibile. Grazie professore. Grazie a lei.